Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. L'Opera Rapid 2021 si è appena concluso, ma ci aspetta un'ultima partita da vedere insieme, che oltretutto è la partita più bella del torneo. Ma sto forse esagerando? Non credo proprio, perché in questa partita ci sono sacrifici di tutti i tipi, attacchi, difese eccezionali e dalla fine quattro donne sulla scacchiera. Con quelle quattro donne non c'è più nessuna strategia, sono quattro donne assassine che vogliono una sola cosa, la testa del re avversario. Partiamo! Duda con i pezzi bianchi contro Daniel Dubov col nero. Duda apre la partita con D4 e Dubov risponde con cavallo in F6. C4 e 6, cavallo in F3, la spinta al centro D5 e qui arriva cavallo in C3. Con C6 giocata da Dubov entriamo nella semislava. Adesso sappiamo che il bianco può giocare al fiera in G5, naturalmente può giocare quello che preferisce, ma le due continuazioni principali sono al fiera in G5 ed anche E3. Duda continuerà con E3, vuole evitare le complicazioni, ma sarà evitare le complicazioni per modo di dire, perché vedremo che partita uscirà fuori. Ma diciamo che questa E3 più posizionale vuole evitare le complicazioni, un po' il labirinto di al fiera in G5 che può portare alla variante di Mosca. Dopo E3, cavallo in B si porta in D7, arriva al fiera in D3. Adesso che il bianco, appena sviluppato l'alfiera, il nero cambia in C4, in modo tale da fargli perdere, tra virgolette, un tempo. Dopo che l'alfiera ha ricatturato, il nero lo attacca con la spinta B5, quindi Dubov sta giocando la cosiddetta difesa di Merano. Proprio questa linea caratterizzata da questa espansione sul lato di donna. L'alfiere attaccato dal pedone si riporta in D3 e qui arriva al fiera in B7. Questo è un momento strategico molto importante per il bianco, perché dovrà decidere come continuare. Può continuare con E4, quindi a conquistare subito il centro, oppure con arrocco corto, ma anche A3, che controlla la casa B4, è molto giocata. Duda continuerà con arrocco corto e qui arriva A6. A6, proteggendo per la seconda volta il pedone B5, permetterà a Dubov la spinta C5 per attaccare il centro, e qui arriva E4. Questa spinta E4 non soltanto conquista il centro, ma dopo la spinta C5 del nero aiuta il bianco a spingere in D5, ma vediamo cosa succederà invece in questa partita, perché Dubov, secondo i piani, gioca C5 attaccando il centro, ma Duda non continua con D5 e continuerà con E5. Vediamo invece, velocemente, cosa succede di solito con D5. D5 sembra perdere un pedone, ma in realtà non è così, perché il nero continua con C4, adesso afferma in C2 il pedone è ben protetto. Ritorniamo a D5, come mai il nero non cattura in D5? E non cattura in D5, perché dopo la cattura si apre questa pericolosissima colonna E, vincere il pedone rischia di essere una perdita di tempo che perde la partita. Ma ritorniamo a noi, perché dopo C5 abbiamo detto che Duda, invece di spingere in D5, spinge in E5, quindi adesso cavallo sotto attacco si porta in D5. Cavallo in G5, adesso cambio dei cavalli in C3, il pedone B ricattura e adesso Dubov si prepara all'arrocco corto. Quindi al ferro in E7. Siamo ad un altro momento importante, perché arriverà una novità eccezionale. Ci sono poche partite in database con questa posizione, dove il bianco, vedete questa catena pedonale, come se fosse una freccia, che ci indica dove il bianco ha più spazio e quindi dove il bianco attaccherà, quindi il bianco attaccherà sul lato di re, attaccherà proprio il castello. Sarà una bellissima partita. Ma cosa fa di solito il bianco in questa posizione? Migliora il suo attacco con F4 oppure con donna in H5. Duda invece ci va giù pesante, perché gioca una novità piuttosto forte, cavallo cattura N6. Quindi sacrificio di pezzo ad aprire questa pericolosissima diagonale chiara che porta al re nero. E questo è un pezzo che bisogna accettare, perché se no viene completamente disfatto dal rocco, si perdono oltretutto due pedoni. Quindi Dubov, che di solito è lui, il grande attaccante alla tal che gioca questi sacrifici, costretto ad accettare il sacrificio di Duda, F cattura N6, arriva donna in H5 con scacco. Ci sono soltanto due continuazioni legali per il nero, sono re in F8 oppure G6. Dubov giocherà G6, che oltretutto a colpo d'occhio sembra peggiore, e probabilmente leggermente lo è, ma andiamo a vedere come mai non ha giocato re in F8. Perché dopo re in F8, il bianco continua a secondi piani con F4. Ora attenzione, perché non si può perdere tanto tempo, perché la spinta F5 è fortissima, ed è giocata per aprire in qualsiasi maniera questa colonna F che porta con la torre sul re nero, quindi il re si dovrà spostare in G8. Ma F5 arriva lo stesso, donna in E8 per cambiare le donne, che è uno dei metodi difensivi migliori per togliere forza dall'attacco dell'avversario, ma naturalmente il bianco non si farà mai cambiare la donna. Alfieri in D5 è una delle difese migliori, probabilmente la difesa migliore, in caso di cambio si sposterà in qualche maniera l'alfiere, ma almeno si dà un'ulteriore protezione a questa casa F7. Il nero si sta difendendo bene, ma ricordiamoci che l'attacco è appena iniziato, bisogna continuare a non fare errori, è una posizione difficilissima, soprattutto a tempo breve. Quindi per questo motivo Dubov sceglie un altro tipo di piano. Quindi dopo lo scacco di donne in H5, e gioca a G6, adesso l'alfiere cattura in G6 con scacco, vedete che il pedone ricattura, e cosa farà Duda? Di solito in questa posizione si cattura con la donna della torre con scacco, ma questa cattura non dà in questa posizione la vittoria al bianco, e infatti Duda catturerà il pedone in G6 con scacco. Ritorniamo indietro, velocemente, perché catturare la torre permette al nero di difendersi, addirittura dopo cavallo in F8, il nero se la caverà e forse sta anche meglio del bianco, ma Duda invece continua con donna cattura in G6 con scacco. Adesso il re si sposta in F8, arriva al fiere in H6 con scacco. Quindi un altro cambio di pezzi, la donna ricattura e il re si sposta in G8. Donna in G6 con scacco, tutti i scacchi per riposizionarsi nel modo migliore, il re in H8, adesso nuovo scacco di donna ad H6, re in G8. Oltretutto questi scacchi servono anche a guadagnare un po' di tempo sull'orologio. Arriva la cattura con scacco in E6, re in G7, e qui un'altra mossa fortissima, torre in A che va in D1. Duda ha due idee in mente, una è la cattura, quindi l'apertura della colonna D, il bersaglio diventa il cavallo due volte sotto attacco, ma la seconda idea, forse ancora più forte, è quella di portare la torre in D3, metterla in campo aperto, e dare il matto al re nero. Quindi Dubov toglie il cavallo, che è un'idea giustissima da questa colonna D, oltretutto, guardate, riesce a trovare una bellissima coordinazione, perché il cavallo potrà portarsi a fare da schermo al suo re, e qui arriva donna in G4 con scacco. Re in H8 è la migliore difesa, Dubov si sta difendendo benissimo, perché vorrà sì farsi difendere dal cavallo, ma vorrà portare il cavallo in H7, e non auto-inchiolarsi il cavallo, dove il bianco può attaccarlo velocemente con un pedone, in questa posizione Duda continua con D5, addirittura oltre all'attacco, quindi alla minaccia di matto sul re nero, ci sono al centro due pedoni passati, oltre la metà campo, e anche connessi. Quindi Dubov finisce questa manovra di cavallo, con cavallo in H7, quindi il cavallo farà da scudo al re sulla colonna H, ma ritorniamo indietro di una mossa. Come mai Dubov non ha catturato questo pedone in D5? Andiamo a vedere che cosa succede. Dopo alfiere cattura in D5, non giocata da Dubov, arriva una mossa fortissima, E6, vedete che l'alfiere non può catturare, perché è inchiodato sulla donna, il pedone chiude qualsiasi tipo di via di uscita, se si cattura con il cavallo, guardate che succede, succede che arriva lo scacco, e il pezzo è perduto. Non soltanto il pezzo è perduto, ci sono due pezzi sulla colonna D, arriverà anche la seconda torre, e il bianco vince semplicemente la partita. Quindi D5, cavallo in H7, e qui arriva anche D6. Alfiere sotto attacco, si porta in H4, questa D6 è stata però, un po', un po' prematura forse, perché la centralizzazione della seconda torre, torre in F che va in E1, era ancora più forte. Comunque, l'attacco rimane fortissimo, arriva anche E6. I due pedoni passati, continuano ad avanzare, fanno sempre più paura, ma pensate, Dubov non soltanto si è difeso da Leone, riesce anche a trovare un contrattacco fortissimo, perché arriva donna in F6, la partita con donna in F6 è sempre aperta, con donna in G5, avrebbe vinto Dubov, ritorniamo indietro di una mossa, donna in G5, era probabilmente vincente, perché forza il cambio donne, guardate che la donna, deve essere attenta a come si sposta, perché dietro c'è il matto, e poi arriverà la torre in A che va in G8, quindi probabilmente, quasi probabilmente, il cambio è forzato, il cavallo ricattura, sembra che il bianco riuscirà a promuovere, quindi far una tronna a vincere la partita, ma non è così, perché arriva cavallo in H3 con scacco, che oltretutto apre la seconda difesa sulla casa di promozione, il cavallo è intoccabile, perché se si cattura il cavallo, torre in G8 è direttamente scacco matto, dopo cavallo in H3 con scacco, il re si deve portare in H1, e il cavallo torna in F4, attenzione perché c'è un altro tipo di matto, bisogna giocare F3, ora il nero deve portare indietro un pezzo, se non arriva la forchetta, alfiere in E7, guardate uno dei due pedoni, eppure sotto attacco, il bianco giocherà torre in F che va in E1, ma arriva alfiere in D5, attenzione qui non si può catturare, se no c'è la forchetta di torre, arriverà anche a 4, a 4 perché il pedone era sicuramente perso, almeno si sciupa la struttura pedonale, ma questi pedoni alla fine sono più forti, perché vedete il nero è rimasto con tre pezzi per una torre, e sta riuscendo benissimo a controllare questi pedoni passati, e quindi il nero sta vincendo la partita. Ritorniamo a noi, comunque Dubov pur non giocando la mossa vincente, ha trovato un contraattacco fortissimo, perché vedete adesso tre pezzi stanno puntando sul re bianco, e qui arriva E7, alfiere in C6 a controllare la nuova casa di promozione, e qui arriva G3. Ora sembra attaccare l'alfiere, ma in realtà questo alfiere è intoccabile, perché vedete se no si perde la donna, e oltretutto arriva subito torre in G8, e questa donna bianca è sotto attacco. Donna in H5, di nuovo l'alfiere è intoccabile, perché vedete che se in questa posizione, se la donna cattura, la donna nera può ricatturare il pedone inchiodato, e quindi infatti Dubov non si cura affatto di questo alfiere, ma continua con donna cattura in C3. Guardate che succede, Dubov sta per spaccare l'arrocco, e spaccando l'arrocco con l'alfiere su case chiare, l'ultimo pezzo che cattura è la donna con scacco, si va a dare il matto, quindi un attacco fortissimo, e Duda trova però un'interferenza fantastica. Torre in D5 chiudendo l'alfiere, che aiutava la donna a dare il matto, e poi attenzione perché il bianco sta anche per raddoppiare le torri sulla colonna D, quindi chiudendo la diagonale dell'alfiere viene disinnescato questo attacco sull'arrocco, addirittura adesso veramente il nero deve perdere un tempo, perché il bianco potrebbe davvero catturare il pezzo, e quindi Dubov è costretto a cambiare l'alfiere sulla torre. Alfiere cattura in D5, la donna ricattura, si mette dietro il pedone passato, che in due mosse diventerà donna. Cavallo in F6, giocata da Dubov, attacca la donna, protegge per la seconda volta, una delle case di promozione, e siamo arrivati al nostro quizzone, perché anche se sembra una mossa fortissima, non è la mossa migliore, ma adesso c'è soltanto una continuazione che porta il bianco in vantaggio. Quindi, cosa giochereste voi al posto di Duda? Mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo alla nostra partita, perché Dubov trova il sacrificio vincente di donna, donna cattura in G8 con scacco, il cavallo ricattura, perché non si può impedire che uno di questi due pedoni diventi donna, almeno quando diventa donna, il cavallo fa da schermo al re, e qui arriva la promozione. Attenzione perché si rischia di promuovere anche il secondo pedone, e quindi Dubov gioca al fiere in F6. Questa posizione torre in D1 e D7 sono le mosse più forti, e invece Duda continua con donna in H5 con scacco. Ora ricordiamoci, siamo alla mossa 35, quindi inizia anche un po' a scazzeggiare il tempo, il re sotto attacco si porta in G7, arriva torre in D1, dietro il pedone passato, quindi posizione fortissima, ma pensate Dubov riesce a ricordinare i pezzi. Cavallo in H6, D7, e qui arriva la seconda protezione, sulla casa di promozione. Cavallo in F7, quindi Duda continua con l'attacco al re, donna in G4 con scacco. Re in F8, e qui donna in E6. Arriva C4, guardate Dubov, finita la possibilità di un contrattacco contro il re, prova anche lui a crearsi il suo pedone passato, ora in questa posizione, come mai Duda non continuerà con donna in E8 con scacco? Perché dopo donna in E8 con scacco, non giocato da Duda, il re si sposta, il pedone è vero che promuove, ma non vince più, perché qui c'è alfiere per donna, la torre ricattura, cavallo per torre, la donna ricattura, ma anche se il bianco ha un pedone di vantaggio, qui finisce in parità, quindi ritorniamo indietro, quindi in questa posizione c'è ancora, questo contrattacco di Duda, pur essendo il bianco in posizione vincente, e comunque deve, il bianco deve ancora guadagnarsi la vittoria, non è così semplice andarla a vincere, quindi torre D5, giocata da Duda, qui arriva B4, torre in F5, due volte sotto attacco, protetto soltanto dalla donna, Dubov protegge dal fiere con re in G7, re in G2 per evitare gli scacchi, e qui arriva B3, A per B3, il pedone C ricattura, Dubov è riuscito a crearsi, il suo pedone è passato, siamo ad un'altra posizione critica, mossa 44 per il bianco, Duda deve trovare l'unica mossa, che vince la partita, catturerà con la donna in A6, ma non è questa la mossa vincente, ritorniamo indietro di una mossa, questa posizione Duda deve trovare, una manovra secondo me, non semplice da vedere, che è torre in F4, per poi attaccare il re sulla colonna G, qui arriva B2, la promozione non si può catturare di alfiere, bisognerà catturare di cavallo, quindi il cavallo cattura in D8, c'è la donna sotto attacco, ma adesso arriva lo scacco di torre da G4, re in H6, donna in F5, ed il bianco vince la partita, qui non c'è modo di fermare il matto, ritorniamo a noi, invece dopo la cattura di donna in A6, di nuovo è tutto in gioco, e Dubov porta il pedone in B2, anche lui è ad un passo dalla promozione, con una piccola differenza però, che guardate, Dubov sta difendendo con due pezzi, la casa di promozione di Duda, e qui il pedone di Dubov, sembra proiettato a promuovere per primo, arriva donna in B6, che vedete controlla un po' tutto, perché controlla anche la casa B1, ma qui arriva alfiere in D8, donna sotto attacco, torre cattura in F7 con scacco, il re ricattura, la donna cattura in D8, donna in C6 con scacco, bellissima mossa di Dubov, e qui arriva F3, siamo mossa 48 anche per Dubov, siamo all'ultimo momento critico della partita, perché Dubov promuove per primo, quindi si ritrova per primo con due donne sulla scacchiera, ma questa mossa incredibilmente perde la partita, ritorniamo indietro di una mossa, cosa doveva giocare Dubov? Dubov doveva tentare la patta, doveva giocare donna in C2 con scacco, ma sapete che per Dubov, per Tal, per questi giocatori, la patta è una parola che non esiste nel loro vocabolario, Duda stava giocando per vincere la partita, ottenuto senza tempo sul orologio, qui si gioca distinto, il suo istinto è quello di dare matto, cosa doveva giocare? Doveva partire con donna in C2 con scacco, per rimanovrare il re, donna in H7 con scacco, il re deve per forza ritornare indietro, e quindi diventa patta per ripetizione, perché se il re si sposta in avanti, ci sono un'infinità di dini e vincenti, andiamone a vedere una abbastanza carina, che è donna in G6 con scacco, il re ritorna in H3, donna in E6 con scacco, che oltretutto vedete qui, come voleva promuovere il bianco, voleva promuovere spostando la donna con scacco, quindi con tempo, ma adesso la donna del nero protegge tutto, re in G2, qui il nero promuove per primo, ma sarà l'unico a promuovere, e quindi a vincere la partita. Ritorniamo a domini, Dubov invece va per il matto, e qui arriva donna in E8 con scacco, quindi si sposta con tempo, il re si porta in G7, e qui naturalmente non si promuove subito, ma si gioca donna in E5 con scacco, re in H7, tutte mosse per riposizionarsi nella maniera migliore, donna in H5 con scacco, arriva re in G7, donna in G4 con scacco, il re di Dubov si porta in H6, donna in F4 con scacco, re in H5, arriva G4 con scacco, il re si porta in G6, e finalmente Duda promuove. Quattro donne sulla scacchiera, qui non c'è più strategia che tenga i giocatori a non solo scopo, che è quello di dare matto, inizia Dubov con donna in C, che va in C2 con scacco, e ora bisogna stare attenti, perché se il re si sposta, prende matto, vediamolo velocemente, se il re si porta per esempio in H3, arriva donna in F1 con scacco, re in H4, questo scacco non funziona, perché la donna si interpone, ma c'è un altro scacco, che è donna in F, che va in F2 con scacco, vedete il re non può scappare, se si sposta in H3, c'è il matto, donna cattura in H2 matto, quindi l'interposizione, ma qui davvero di nuovo, la cattura in H2 diventa scacco matto. Quindi che succede? Dubov ha attaccato per primo, ma Duda interpone la donna, in questa posizione, mossa a 56, danno il Dubov, abbandona, abbandona perché non ci sono scacchi, il nero oltretutto rischia di prendere matto, se cambia un paio di donne, e qui si rimane in un finale, di donna, con tre pedoni contro donna, che è semplicemente vinto, e quindi non c'è più niente da fare. Una partita esplosiva, secondo me, forse veramente la più bella del torneo, vorrei sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta, quindi fatemelo sapere nei commenti, per adesso vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, non scordate il like, soprattutto non scordate di iscrivervi al canale, e ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! A presto!